ciao a tutti sono i giorni 95 e oggi ci troviamo su CTR NitroFueled l'ultima volta abbiamo finito la zona ghiacciata e ora siamo nella zona fortezza cittadella e facciamo gli attori che ci sono rimasti poi mi raccomando scrivetemi nei commenti se volete che io nei prossimi episodi che farò dopo aver fatto anche i circuiti trofei torneo quelli delle gemme e se volete che faccio anche tutte le chiavi con tutte le rarità oppure volete solo delle rarità platino scrivetemi nei commenti perchè così mi posso adeguare e portare di quello che vi può interessare detto questo andiamo con il settore blu laboratore engine ok allora poi se c'è l'audio del gioco troppo alto oppure la mia voce troppo alta me lo scrivete nei commenti e poi nel prossimo video adesso vi registro tutti i gettoni insieme se riesco poi magari nel prossimo video vi metto un audio mi diverso la r era lì la r l'ho vista ok sto diventando sempre spiro ma vabbè di un personaggio non è importante quello che utilizzo l'importante è che vi porto la vittoria allora sicuro che avete visto il video la ti ah niente la ti l'ho persa sono pure caduta il video quello dei mille video speciale mille video io mi distraggo e cado perchè mi sono impianto per il ritavolo e spero che vi possa piacere allora ma cado sempre incredibili vabbè adesso impariamo a vedere dove sta le lettere eccolo ci sta qua non l'avevo vista prima poi se per caso non ce la facciamo la c'era stava lì possiamo prendere perfetto se non riusciamo a vincere poi lo rifacciamo guardate che io provi a registrarvi tutti i gettoni ma perchè scivola così? si vede che da un po' che non gioco a ctr perchè io registro ctr solo quando riesco quindi è un buon casino e ultimamente non ho la connessione per giocare online quindi non mi posso esercitare più di tanto ho presa ok andate nel momento in cui vi sto registrando questo video ho ancora il telefono che non funziona quindi non so se quando vedete questo video grazie proprio esattamente del book che dovevo andare a cadere io mentre sto registrando questo video non so se per il momento lì potrò registrare il telefono ecco ce l'aveva preso mi doveva prendere se no non siamo contenti tanto ho perso non arriverò mai in tempo non arriverò mai in tempo l'avvio e vabbè succedo posso dirvi non è che ci sono i ctr posso sembrare sempre l'accavolato ma è soltanto che dovrebbe essere difficile modificata normale non ho preso no l'r si però no 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 eh la micchiazza per evitare di cadere sono fatto schicciare le levati ho preso la t ho preso anche la mela dorata ho preso anche loro da sotto a posto vedi prima volta perdiamo la seconda miglioriamo salta e prendi la perfetto no l'ha preso volevo mantenere il fuoco attenzione nella scorso video probabilmente era quello no non era lo scorso video forse vabbè comunque oddio che dico no aspetta aspetta piano piano non voglio cadere anche se manca un altro giro ehm c'era engine che non ci voleva far vincere ora siamo nella sua pista quindi non so se engine è presente in te qui non lo vedo però nel caso noi dobbiamo comunque vincere da prima mi hai dato il turbo bene il gioco ci premia perchè siamo stati bravi non so non posso giocare online perchè in questo momento non ho il ps plus ancora quello che me lo presta sta prestando un altro quindi non posso utilizzarlo io però noi vinciamo aspetta no non c'era engine vabbè che c'è nel blu perfetto linee dritte timo side va bene cambiamo passaggio in fretta personaggi non perdiamo tempo boh mi metto che mi posso mettere che poi hanno aggiunto un altro un altro ridlaroo quella versione originale che vabbè è quell'altro un altro che mi metto in fretta vediamo vediamo lex 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 vai 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 il veicolo teniamo così allora come prossimo livello questo è il boss che avevo fatto l'altra volta un po' di tempo fa eh beh solo si vede perchè se volete vedete qua ci sono le chiavi se volete che prendiamo solo le chiavi faccio vedere quando prendo le chiavi di platino faccio vedere solo quello faccio prima e registro quello se no se volete anche le chiavi zaffiro e oro se riescono hanno detto che poi riesca a prendere subito il zaffiro perchè può darsi che io prendo direttamente la oro o il platino adesso sono abbastanza bravo quindi vuole dipende però nel caso io riesco a prendere zaffiro ehm o le oro l'eventuale oro mi scrivete se volete vedere anche quelli a quei tempi lì oppure volete vedere solo il tempo finale quella del platino però qui se ha il vostro commento se no non riesco a capire cosa portarvi ah cittone verde rocca cortes vai ok ok l'erro l'ho già vista allora l'ho vista adesso da lì perfetto ma guardate vabbè comunque io e poi io vi registro i giochi non sul momento in cui vengono realizzati forse nuovi questa è la c ok perchè altrimenti li possono bloccare perchè vi mostro cose nuove cose che magari voi il creatore del gioco vogliono che che voi scoppiate di persona quando cliccate il gioco quando ci giocate la ti sicuro sta qua sta a vedere quanto vai no non sta qua ah sta qua tutti nei salti ok però però sono andata maldi andai abbiamo colpo via via intanto vi faccio vedere qualche provata che ce la faccio subito qui eh quelli carico più gare nel stesso video mi accolto la serie ma perchè mi devi toccare sempre oh e quindi eh grazie dai non ce l'ha fatta non ci credo vabbè meglio fare il percorso normale ho dovuto fare quello che tentavo ho dovuto dimostrare di essere pro ma niente niente eh vabbè i ragni ce l'hanno con me infatti anche i missili perchè eventualmente mi beccano sempre dai ma i primi due se ne vanno dopo non riuscirò mai a fare come l'altra volta che sono arrivato sono arrivato a fare un recupero uno uno scatto al photo finish con dingo dai adesso c'è crash e pola là davanti non mi dà poteri per arrivare da loro però abilità dai dai ok siamo in tre per la fine via via incredibile che l'ho fatta quindi per questo vi porto giochi diciamo che hanno già portato altri sul canale così non non incorre in questi pericoli come vi ho fatto sul 100 doors 2019 è stato un problema quello che ho dovuto cancellare tutti i video perchè altrimenti loro trovavano problemi va bene siamo andati avanti abbiamo fatto il livello ok il settore verde l'abbiamo preso il nostro pubblico che ci tifa mi raccomando anche voi lasciate un bel like perchè qua dobbiamo andare avanti tricolore team outside